Allora come promesso dò la parola che devo aggiungere qualcosa di interessante, che cos'è? Un ulteriore elemento di riflessione che forse è il caso di fare, che nel momento in cui le aziende agricole dovessero chiudere o non riuscire più ad avere reito sufficiente per continuare a vivere, ne risentirebbe non solo l'agricoltore diretto interessato, ma ne risentirebbe il paesaggio, ne risentirebbe il cibo che viene mangiato, ne risentirebbe la situazione idrogeologica che appunto vediamo. La cura del territorio, cura del nostro territorio. Certo, perché l'imprenditore agricolo fa tutela del territorio e del paesaggio, per cui è un valore aggiunto a fini commerciali, turistici e a fini anche di gestione dell'agroambiente. Assolutamente, no ma questo è importantissimo. Prima di passare la parola anche a un'imprenditrice, facciamo un imprenditore o un imprenditrice, devo aggiungere qualche cosa relativamente al discorso della produzione di vacche da latte, l'investimento che ha fatto? Noi oltre a nel 2010 siamo partiti con la decisione di fare la venda diretta, vedendo che il prezzo del latte non è... Quindi vendere direttamente il latte? No, beh nel 2008, giugno 2008 siamo partiti con il distributore automatico di latte e dopo verso il fine 2009 è stato chiuso perché a dicembre è uscita la legge dell'abolitura, il latte era obbligatorio fare l'abolitura per il consumo, il consumatore si è trovato con un impegno in più, non ha più deciso di consumare il latte crudo, diciamo, quello del distributore. Visto questa scelta che non è nata a buon fine, abbiamo cambiato rotta, siamo partiti con il caso d'edificio, con trasformazione in azienda, abbiamo fatto un caso d'edificio a normativa CE, comunque c'è il posto di servizio veterinario e nel 2012 siamo messi nel mercato, tramite la Confederazione Italiana dell'Agricoltore, a fare i mercati contadini. Che è almeno uno sbocco. L'investimento cos'era? 500 mila euro? Bene, sulle quote di latte è stato sui 500 mila euro, oltre a tutte le strutture e il macchinario, è stata una cifra, il tipo delle quote di latte. E dopo abbiamo investito i 300 mila euro nel caso d'edificio nel 2010. Siete rientrati della cifra? Come? Delle quote? Sì, degli investimenti? Delle quote stiamo finendo l'investimento, però non è ancora, perché ci sono state anche le multe delle anni 95, 96, 97, che abbiamo prodotto il latte. E dopo il 98 il governo ha deciso di mettere la sanzione per esplafonamento del latte. Di cui non eravate a conoscenza? No, l'hanno fatta dopo tre anni che producevamo il latte a normativa. Fantastico, tanto per tornare sul tema. Allora, poi andiamo ad un'altra storia. Chi incomincia? Cristiana Scarabello, che è dell'ortofrutta di Maserà. Buonasera. Allora, diciamo che la mia azienda inizia negli anni 60 ancora con il papà. Poi sfortunatamente l'ho perso e io comunque sono sempre stata al loro fianco, fin da piccolina dell'azienda, fin da subito, perché quando eravamo piccoli eravamo quattro fratelli ed siamo cresciuti in campagna praticamente, perché la mamma e il papà tutto il giorno non l'ha. Andando avanti con gli anni, purtroppo io ho perso il padre, sono sempre stata a fianco a mia madre, siamo state sempre vicine e pian pianino abbiamo fatto crescere un po' questa realtà che avevamo a casa, a fianco anche a degli altri fratelli fortunatamente. Quindi voi avevate produzioni di ortofruttico? Sì, ortaggi la prevalenza, la prevalenza era ortaggio a casa mia. C'era già all'epoca la vendita diretta a casa, quindi comunque si conferiva in alcune cooperative, però la maggior parte veniva fatta proprio la vendita diretta a casa. Questa cosa mi è sempre piaciuta, la vendita a me, il contatto con il pubblico. Finché 6-7 anni fa abbiamo iniziato con i famosi mercatini, che io trovo una buona soluzione per le piccole aziende, diciamo, anche perché all'ingrosso io attualmente lascio il 12% di provvigione sulla vendita del prodotto, per cui voglio dire non è una cosa... Quindi avete dei margini molto bassi quando avete la vendita all'ingrosso. Sì, e quindi questo ci aiuta molto. Siamo io e mio fratello e un'altra signora che sempre appunto... Le persone, alle persone piace la vendita diretta. Sì, molto. Qual è il vostro problema principale e qual è invece... Beh, la soddisfazione vi ho visto nella vendita, nella produzione, ma qual è la difficoltà che incontrate? Allora, io essendo donna ce ne sono di difficoltà in campagna, sia a livello di, diciamo, di attrezzature, che chiaramente molte volte mi trovo in difficoltà per questo, allora ho il supporto del fratello, fortunatamente. E poi anche comunque altre difficoltà. Io non ho bambini, però magari sento delle mie colleghe che questo è un grosso problema, perché chiaramente il bambino adesso, al giorno d'oggi, gli asili nidi sono limitati. O magari anche la figura dell'anziano, ci sono queste difficoltà, non da poco, che noi come donne, anche perché chiaramente c'è anche una famiglia dietro, la maggior parte delle volte. Quindi far combaciare tutti i tempi con il nostro orario dell'agricoltura e più la famiglia, non è proprio così semplice la cosa. Questi sono abbastanza dei problemi che quotidianamente ci toccano, insomma. Di questo abbiamo trascurato questo piccolo aspetto, infatti è vero, c'è questo piccolo particolare in più che ci sfuggiva, Presidente, vero? Eh, ma noi siamo un'associazione che si mette in gioco a 360 gradi. Lo sa benissimo che abbiamo anche l'associazione come figura femminile delle donne in campo. No, no, ma infatti abbiamo avuto anche la responsabile che ha dei bambini, tra l'altro. Certo. Però effettivamente anche i macchinari stessi non è che sono facilmente gestibili se uno non ha anche l'energia fisica. Certo, la forza della donna non è sicuramente paragonabile a quella dell'uomo, insomma. Voi godete come settore di agevolazioni, di carattere fiscale, di qualche tipo di contributo europeo, qualche cosa, oppure un settore... Io sono rientrata come primo insediamento nel 2004 e questo mi ha aiutato moltissimo con, sì, diciamo che abbiamo preso delle attrezzature che ci mancavano, che erano abbastanza essenziali per la mia azienda, insomma, ecco. Tuttora, comunque, cresce. Ogni anno si prendono sicuramente delle attrezzature nuove. Quindi voi avete un percorso di crescita, insomma. Sì, sicuramente. Almeno questo è positivo. Passiamo adesso a Andrea Gallato, che facciamo un po', alterniamo. Buonasera. Miele, normale, miele tranquillo, nella zona appunto di Borgorico. Sì, la mia azienda nasce negli anni 80 e praticamente era gestita da mio papà, che era nata come una passione e poi l'ha tramutata in un lavoro vero e proprio. Io è da cinque anni che mi sono insediato, praticamente mi sono affiancato a lui, abbiamo creato una piccola società. Prima cosa facevi? Io facevo l'autista. Ah, quindi un altro lavoro completamente? Tutto altro lavoro. Con grande dispiacere della famiglia, immagino o no? Abbastanza. Poi, visto che a casa avevamo parecchio lavoro e io non potevo seguire, diciamo, l'azienda perché facevo un altro lavoro non ero insediato in azienda, mio papà mi ha un po', diciamo, costretto a entrare in azienda e da lì praticamente ho visto che il lavoro mi piaceva, mi interessava molto essere a contatto con l'agricoltura, con l'ambiente esterno e praticamente mi sono insediato a tempo pieno. Ho lasciato il mio vecchio lavoro e ho cominciato a fare l'apicoltore. Produciamo vari tipi di miele, però il problema maggiore che stiamo affrontando negli ultimi anni è il cambiamento climatico. Cioè, noi non riusciamo più a produrre il miele come una volta. Perché? Perché negli ultimi anni causa maltempo, piogge, vedete anche voi, insomma, il clima non è più quello di una volta, le stagioni non ci sono più, una volta c'erano le quattro stagioni, adesso passiamo dall'inverno all'estate, dall'estate all'inverno non esiste più la primavera, piogge, praticamente questo ci sta rovinando il lavoro perché non si riesce più a produrre. Addirittura, quindi? Sì, si producono quantità inferiori, diciamo anche a un meno 50%, e nessuno ci viene in aiuto, cioè non abbiamo un sostegno da parte della politica. A livello, questo a livello vostro, territoriale Italia, in Europa ci saranno sempre produzioni analoghe, succede qualcosa, in altri paesi avete notizia che succede qualcosa di diverso? Beh, diciamo che è un po' in tutta Europa, che le produzioni sono calate, ma calate, cioè non di un 10-20%. No, ma stiamo parlando di numeri impressionanti, poi in percentuale. Beh, considerando che nel 2014 è stato prodotto un 50-60% di miele in meno che gli anni precedenti. Ma è sempre miele di qualità o miele che ha delle piccole problematiche? No, il miele è lo stesso, il problema è le fioriture praticamente causano al tempo inverni strani, inverni non troppo freddi, piogge che adesso non vengono più, le classiche piogge che durano magari... No, no, sono quelle torrenziali esatto, rovinano i fiori, le api escono, non trovano il nettare e se non trovano il nettare non producono miele. Perciò c'è proprio la mancanza di queste fioriture, di pollini, eccetera. Voi fornite il miele per che cosa? Per altre aziende che poi lo devono lavorare? No, diciamo che una volta noi lavoriamo tanto all'ingrosso, cioè una parte del nostro miele lo vendevamo all'ingrosso e il rimanente ce lo vendevamo noi, abbiamo lo spazio, anche io faccio i mercati come i miei colleghi. Quindi sono un grande aiuto a questi mercati. Esatto. Negli ultimi anni io non riesco più a vendere dei quantitativi all'ingrosso, però me li vendiamo solo nei mercati perché proprio ci manca il prodotto. Di nuovo lei la palla, presidente. Questo è un altro aspetto che sta nel... A riguardo al miele è un tasto un po' dolente perché il mercato invece chiederebbe prodotto e il prodotto non riesce a esserci e magari viene importato anche questo, giusto Andrea? Esatto. Anche il miele è un prodotto che importiamo con le caratteristiche e le qualità che nessuno sa definire. Questo volevo chiederle per fare informazione. Cosa ci sta dietro un miele che non è prodotto con certi crismi o criteri? Perché ne avevamo accennato una volta in trasmissione, non so se si ricorda che c'era anche il nostro ospite, abbiamo ingenerato un po' una discussione che poi è andata avanti per conto suo sul web relativamente alle culture limitrofe dove magari ci possono essere delle sostanze che sono dannose le api. L'inquinamento. L'inquinamento. E parecchie hanno avallato questo che è rischioso. Se all'estero succede qualcosa che non è verificato, controllato, eccetera, noi ci prendiamo che miele? Ci prendiamo quel miele che viene fatto da quelle api che trovano il colline. E quindi potrebbe essere? Potrebbe avere delle caratteristiche organolettiche non perfette e non rigorosamente uguali al nostro prodotto italiano. in Italia da anni che rispettiamo l'ambiente che abbiamo una certa sensibilità nei confronti di questo pensiamo che non usiamo sementi OGM non siamo totalmente biologici però abbiamo un occhio di riguardo se pensiamo che ancora 5-6 anni fa abbiamo tolto anche quelle conce che c'erano all'interno dei semi di mais perché era stato testato che causavano una moria delle nostre api i diserbi sono super controllati cioè abbiamo dei registri in cui certifichiamo tutti i trattamenti che vengono fatti e nonostante questo abbiamo delle difficoltà nella produzione ma nella nostra produzione di qualità e alla fine cosa succede? Che anche nel mercato italiano vengono spacciati quei prodotti esteri come prodotti italiani come prodotti italiani quindi noi consumatori pensiamo di prendere un prodotto italiano e non lo è non c'è nulla che ci possa non c'è proprio nulla nulla e poi altro problema come diceva Mattia adesso l'anno scorso abbiamo cercato di ampliare il nostro laboratorio allora ho dovuto fare domande al geometro come diceva Mattia ho dovuto fare tutti i vari permessi eccetera spendere soldi progetti presentare tutto in Aveppa chiedere di poter partecipare a un bando per poter essere finanziati non dico una minima parte e poi cos'è successo? che è uscito il bando e non sono rientrato perché avevo un punteggio inferiore perché diciamo che l'apicoltura è un po' un settore quindi una triste sorpresa amare sorpresa esatto adesso mi sono ritrovato che non sono stato finanziato devo costruire questo laboratorio perché a me serve veramente e devo tirar fuori tutti i soldi se lo sapevo prima magari cioè ma questo si sa sempre dopo sempre dopo 15 giorni dopo esatto altro problema fondamentale è che te lo dicono sempre alla fine nel frattempo tu anticipi spendi i soldi e tutto e dopo se sei fortunato va bene altrimenti altrimenti sono guai seri esatto quindi anche i bandi dovrebbero essere aperti nel senso che si potrebbe dare una graduatoria vedere prima se uno esattamente perché se non hai i soldi a disposizione e le banche decidono che il progetto non è interessante da finanziare finanziare che fa? niente niente chiude? chiaro quindi bandi aperti o bandi chiusi che la regione prenda in considerazione anche questi tipo di aspetti assolutamente che alla fine potrebbero essere la definizione per la continuità di un'azienda oppure il rallentamento e non potercela fare dal punto di vista economico e quindi prendersi i propri impegni avete mai chiesto voi in regione? ma sicuramente sono cose che abbiamo sempre messo nel pacchetto nel pacchetto PSR nel pacchetto in cui si va a definire e sarà magari oggetto di richiesta con la prossima manifestazione di cui parleremo tra poco sicuramente questo sarà uno dei punti cardine che andremo a battere con il nostro assessore Manzato il presidente della regione 26 febbraio grande manifestazione a Venezia dopo ne parliamo e comunque Salmaso noi abbiamo un'azienda Salmaso Sara e Salmaso Elena siete insieme è un'azienda che nasce nel lontano 1992 con la mamma che è a lei tuttora titolare dell'azienda Kekin a Saonara che si occupa di? di piante ornamentali piante aromatiche rosai un po' quindi simile a quella che ci raccontava Harry sì siamo però ci siamo evoluti abbastanza nel genere delle piante eravamo tanto in piante fruttifere adesso abbiamo un po' diversificato io sono una come si dice una aiutante della mamma per adesso però io e mia sorella stiamo cercando di insediarci io ho 22 anni mia sorella ne ha 27 quindi siamo molto molto giovani state studiando? io mi sto studiando agraria infatti all'università all'università e sono al terzo anno invece mia sorella è già laureata in che cosa? in scienze politiche proprio un settore completamente diverso però l'economia magari in qualche modo magari aiuta nella nostra azienda si producono le piante diciamo quelle che ormai sono le piante aromatiche che si utilizzano di più prima come ti dicevo si utilizzavano le piante da frutto però abbiamo visto che non ci sono più sbocchi almeno in quel settore cioè anche le piante da frutto ormai non hanno più diciamo una grossa vendita come ce l'avevano prima che altro poi c'è produciamo anche rosai però anche lì come produzione abbiamo diminuito moltissimo perché produrne 10.000 20.000 come facevamo una volta 10.000 20.000 sono tantissimi che siamo in 4 abbiamo mi ricordo quando avevo 6 anni andavo invece dell'estate al mare o in montagna mi facevamo l'estate in mezzo ai campi al sole con la mamma e il papà a mettere gli elastici sulla piantina e le mie compagni mi raccontavano io sono stata al mare invece a me facciamo un po' diciamo bruttino dire che io sono stata in campagna invece dal mare capito e quindi è già diverso e quindi abbiamo dimezzato anche di molto per buttarci alla vendita diretta prima facevamo vendita all'ingrosso e adesso facciamo solo quindi conviene a questo punto la vendita diretta almeno nel nostro settore adesso conviene fare vendita diretta non più vendita all'ingrosso la vendita all'ingrosso non ne vale più la pena ecco visto che ha fatto anche economia scienze politiche vabbè comunque l'economia è un quasi c'è un'inversione da un lato la globalizzazione che spinge questi mercati e all'ingrosso a prendere i prodotti anche dai piccoli dall'altro i piccoli che si tirano indietro che per salvarsi devono buttarsi in prima linea e allettare in qualche modo anche lì far conoscere al consumatore questi mercatini dove si trovano eccetera ma cercare di carpire per avere un guadagno maggiore allora diciamo che noi appunto come diceva mia sorella siamo nate proprio come azienda che faceva principalmente piante fruttifere però poi con discorso comunque diciamo dei malattie che sono venute fuori soprattutto sulle piante da frutto e poi successivamente anche due anni fa anche sui kiwi diciamo la regione Veneto ci ha bloccato dal punto di vista diciamo dei quantitativi nel senso che alcun tipo i kiwi siamo rimasti fermi per circa due anni avevamo una produzione di circa 6.000 kiwi e sono rimasti fermi cioè due anni nel corso appunto che noi non potevamo vendere quindi diciamo e quindi sono rimasti fermi lì in azienda legati e a seconda appunto del servizio del spiettorato insomma dell'agricoltura che veniva diciamo non quotidianamente però ogni tre mesi a fare diciamo le analisi non abbiamo potuto proprio toccare i kiwi quindi esatto sono rimasti lì fermi e quindi noi non abbiamo ricevuto niente nel senso non abbiamo potuto venderli e quindi diciamo la nostra produzione è rimasta ferma per questo poi noi ci siamo buttati a fare i mercatini agricoli insieme agli altri insomma abbiamo cambiato completamente anche la struttura dell'attività perché prima era principalmente a cielo aperto adesso invece è proprio diventato all'interno di Serre Serre che appunto da prima diciamo sì avevamo qualcosina però adesso proprio a piante aromatiche principalmente rosai come diceva mia sorella quindi riuscite a stare ad andare avanti ad avere margine riusciamo ad andare avanti per il momento però sappiamo anche che diciamo il settore florovivaistico è l'ultimo settore nel senso che la gente giustamente prima paga le tasse poi mangia poi infine compra o la pianta aromatica o il fiore quindi diciamo noi siamo un po' penalizzati ancora di più rispetto magari agli altri agli altri giovani insomma o agli altri comunque aziende ma volete continuare sull'attività sì vogliamo continuare sì sull'attività e andare avanti cercare comunque di creare altri sbocchi ecco ma infatti questo è bello che anche la caparbietà in cui nonostante le difficoltà perché ognuno ha le sue purtroppo che uno pensava di fare una bella trasmissione da quante rose e fiori bucoliche tranquille invece sta emergendo una serie di situazioni però è bello vedervi determinate temprate è bellissimo come Elena con la sua con la sua sincerità trasparente ha detto i veneti prima pagano le tasse poi mangiano e poi faranno bello il territorio e acquisteranno le piante sì sì ma è verissimo no nella sua semplicità però è questo cioè da trasmettere che la bella Italia che la definiamo una grande Ferrari sono convintissimo che il motore sia proprio il Veneto con la sua onestà nei confronti di tutti che però poi venga rigettata cioè i denari nel Veneto questo è un po' da rivedere no no ma infatti ma bisogna anche tirarle fuori certe cose altrimenti restano solo tra chi le vive e le altre non ne sono assolutamente a conoscenza ecco io direi andiamo subito in pubblicità veramente pochissimi secondi poi ritorniamo ancora insieme con tutti quanti voi abbiamo da sentire altre testimonianze pochi secondi tra pochi siamo insieme non cambiamo a conoscenza a conoscenza a conoscenza a conoscenza